Festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato del sito hotel Le Due Torri, 0825 67 00 01. Una vigila di blackout? Sì, hanno staccato la corrente nei portoni senza avvisarci, senza dire qualcosa. Il comune non ha pagato le NEL, se l'ha preso con noi i condomini qua. La sera all'oscuro i portoni non funzionano, i citofoni non funzionano. Non possiamo aprire manco le persone che bussano, che hanno staccato la corrente, hanno rimasto senza luce, le scale. Ieri mia socia con la candela è salita sopra le scale, con la candela, si rende conto che siamo nel 2016-2017. Questi comuni non pagano le NEL, ci staccano la corrente, le scale. Ma voi vi siete opposti, avete segnalato il disagio? No, abbiamo segnalato a sua casa, Elio. Ha detto che ha fatto una esposta al comune, al prefetto, ma non abbiamo visto ancora niente. Tra l'altro in questi palazzi ci sono anche persone disabili, anziani. Anziani che non possono salire manco le scale, per esempio i bambini piccoli alla notte qua, non c'è nessuna luce. Come devo fare? E poi tutte queste case qua, sono 60 anni che non ci hanno detto, manco le condizioni, la umidità che c'è sopra a casa. E questi ci hanno staccato la corrente all'improvviso, bisogna avvertire il comune. Insomma, dopo il danno pure la Beffa. Brava, la Beffa, ci hanno fatto tutti i portoni qua, ci hanno staccato tutti quanti i portoni, senza ci avvisare. Ci hanno avvisato con la carta e mi ha detto, ma il comune non ha pagato l'enno, perché il condomino non lo paghiamo nell'affitto della casa. Sì, sì, sì. Insomma, il suo appello all'amministrazione? L'amministrazione che provvede attaccano dalla corrente, perché in queste condizioni non possiamo vivere. Siamo nel 2017. Quante famiglie siete? Sono una cittadina di famiglie, torno a noi qua, pur di sotto, l'hanno staccato di sotto e soprattutto qua hanno staccato la corrente, a tutti quanti i portoni, senza ci avvisare. Forse ha fatto i debiti con le nelle, non ha cacciato i soldi, si ha presi con i fittuori che stanno qua. Per il comune come si permette di staccare la corrente? Perché non prevedeteva lui, con questo caso, che lui ci è interessato. Voi siete le vittime di tutto questo tipo di pasticcio. Staccare una piazza, staccare una piazza.